Ah hi people of youtube, welcome back to a new episode of Centro 3 Remastered, da parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la morte di Kilbane, ma non solo, anche la morte di Shondi, Viola e il Sindaco. Questo vuol dire che la prossima missione è il film Stag, a 1,2 km da qua. Pierce è ubriaco storpio proprio. Eh già, bisogna festeggiare no? Va bene, arriviamo al Broken Shelelli. Mi? Oh, sto bene. Si vomita sulle scarpe. E si è saliti pure di livello impennando. Ed eccoci arrivati, aspetta, eccomi. Beh, a Shondi e a tutti gli altri. A tutti quelli morti. A tutti i nostri compagni. Shondi, Carlos, Viola. Abbiamo perduto molti amici per arrivare a dove siamo, e questo non è mai facile. Ma almeno sappiamo che a dove è Gett è, ha amici amici per dare St. Peter un'errore, eh? Eh già, proprio, vero, eh? Sì, sì. A Shondi! A Shondi! Che casino sta succedendo, madonna? Bella sta inquadratura! Ta-tan-tan-ta-tan! Che cazzo è quello? Oh, porca troia! Sai più che devo trasferirmi! Il Daedalus è arrivato! Madonna mia! E' pure azione vera e propria questa, eh? Stanno sparando veramente alla cieca e distruggendo palazzi a cazzo di cane. Beh, se si rilassano ogni edilizia, dovremmo essere in uno di loro. E questo è vero. Eh, lo so. Ma anche un aereo andrebbe bene, eh? Porca puttana. Sempre in ste situazioni finiamo, eh? Ogni volta è sempre peggio. Eh, lo so, Oleg, c'hai ragione. Dobbiamo fare in fretta. Non posso entrare in alcun dei sistemi sull'esterno. Io continuo a provare, ma nessuna promessa. Vai, vai! Io intanto provo alla vecchia maniera, ovvero entriamo e spacchiamo tutto. Eh no, dai, volevo fare un salto. Eh, lo so, c'hai ragione, eh. Eccovi! Uff, ok. Non mi serve un elicottero. Mi serve un veicolo molto più veloce. Se è possibile. Solo elicotteri? Eh, vabbè. Andiamo di elicottero, allora. Che ti devo dire? Forse l'altro era più carino. Vabbè, non importa. Questo c'ha i razzi. E comunque, molto meglio questi elicotteri di quelli che avevamo in centro 1 e 2. Questo è poco, ma sicuro. In ogni caso, cerchiamo di passare in mezzo ai palazzi, almeno. Evitiamo la maggior parte dei colpi. E cerchiamo di salire il più in alto possibile. Perché così ci evitiamo che ci sparano. Siamo già qui in alto del Daedalus. Che, tra l'altro, distrugge due torrette così a cacchio di cane. Sicuramente è una soluzione, ma non la soluzione. Oh, allora, abbassati un pochino. Ecco fatto. E ora possiamo atterrare. E eccoci! Allora. Allora, prima di tutto... Ah, che dolore il lanciarazzi. Ci nascondiamo un attimo... Dal blindato. Ecco fatto. Ora. Addio al blindato. Addio anche a quel blindato. Dove cacchio sta mirando? Vabbè, guarda. Boh, non lo so dove sta mirando il gioco, però in ogni caso... Meglio distruggerli preventivamente. Anzi, visto che... Questi non sono... Presi da nessuno. Ci pensiamo noi ad usarli. Dov'è quello lì che funziona? Ecco fatto. Anche là. No, quello forse mi serve per quello indistruttibile. Ok. E ora... È il momento di muoverci col nostro giocattolino. Ecco fatto. Perfetto. Perfetto. Direi che abbiamo fatto un po' di pulizia. Madonna mia, vi faccio saltare in aria letteralmente a tutti ora. Ecco qua. Piazziamo la bomba numero uno. Addio a quello con lanciarazzi. Addio a questi che ci sparano. Qua ci dovrebbe essere il carro armato. Ovviamente. Non c'è più il carro armato. Aia che male. Addio allo scudo. Porca tro... Che voli incredibili che fanno fare. Ecco qua. Porca troia. Vi devasto a tutti ora. Però un po' di munizioni dobbiamo tenercele da parte perché ci servono. Non possiamo usarle tutte. Tra l'altro a volte non capisco letteralmente da dove ci sparino. Ecco qua. Aspettiamo un attimo. Eccolo da là. Aspetta. Ok. Stavo dicendo ma lo sta colpendo o no? E ora possiamo proseguire. Ecco qua. Tra l'altro aspetta un attimo. Ok. Ora abbiamo il loro fucile a pompa. Che non ero sicuro di avere. Però adesso... Nel caso l'abbiamo preso. Mettiamo qui la bomba. E ci andiamo a prendere quel bel elicotterino lì. Che tra l'altro mi sono sempre chiesto. Ma si può arrivare anche a piedi? Credo di no. Credo di no perché alla fine uso sempre questo per arrivarci e... Non ho mai pensato a un altro modo. E viva Cyrus però ha detto che Dio benedica l'America. Io ti amo. Oh! Ok. Non so cosa sia successo di concreto ma ha funzionato. Aia che male! Che male! Troppi sparamissili qua. Ma porca put... Dai! Guardalo ancora! E niente. Non riuscivo a muovermi perché continuavano a bombardarmi. Sapevo che dovevo prendere il potenziamento delle esplosioni che non ti fanno fare ragdoll ma... Chi lo pensava che alla fine sarebbe mai successo che tutte quelle esplosioni mi facevano fare ragdoll? A sto giro almeno mi sono risparmiato un sacco di munizioni. Uh! Un bel po' di soldi aspetta. Fammi vedere se posso prendere il potenziamento. Dimmi che bastano 45. Sì! Rimaniamo con 700 dollari ma fanculo le esplosioni. Ma non c'è nessuno a sto giro. Va bene. Meglio per me. A sto giro non c'era nessuno e per qualche ragione ho preso 5000 dollari. Meglio così, guarda. Piazziamo anche l'ultima bomba. Questo ce lo teniamo che non si sa mai. Ce lo teniamo qua da parte che magari ci può essere utile. Non ho mai provato a fare la missione a bordo dell'aereo qua. Sali? No, non posso? Serio? Me l'ha fatto esplodere, ottimo. Sì, come no. Eh, credo che neanche tu lo farai. Mi dispiace dirtelo. Perché io ho i razzi teleguidati. Aspetta che mi prendo il minigun. Ehm, abbiamo cinque minuti. Sai cosa posso fare in cinque minuti, Kinsey? Letteralmente. Ecco fatto cosa posso fare in cinque minuti. che palle quando si muove tutto. No, è troppo lento il minigun. Mi rallenta un sacco. Meglio le nostre armi. Abbiamo potenziato apposta il lanciarazzi, voglio dire. Abbandonati i dati! Mi ripeto, abbandonati i dati! Come on, c'è! Preso in pieno e stiamo per morire. Uff. Ok, calmi tutti. Qua dovrei essere al sicuro. E tra l'altro, Cyrus dovrebbe tornare a momenti. Dovrebbe fare il giro. Guardalo, guardalo che sta arrivando. Mi dispiace, Cyrus. Hai combattuto una guerra che hai già perso. Ma io scenderei anche col paracadute, non so te. Abbiamo 40 secondi, eh. Com'è che ne avevamo cinque poco fa? Via da questo luogo infame. Uff. E siamo salvi. E anche il Daedalus... Addio soldi statali. Madonna mia. E che missione! Andiamo a fare casino di nuovo! Questo è il più grande tempo in storia di Stilport. Mentre il governo ha ancora commentato sull'attacco, abbiamo un rapporto. Niente si riuscita, nessuno si è scattato, capisci? Tienimi questo, per favore. Questa è qui nel buco? All set. Aspetta qua che tesoro che ti... Ecco qua, tieni. Ora sei perfetto. Ho un messaggio per Monica Hughes e le Stooges. Dio madre. Dio madre. Dio madre. E tu andi a casa in una f***a box. Vieni a te. Sono Jane Valdahosta. Tu potresti essere un uomo o qualcosa di s***a. Eh, potremmo parlare un po' f***a. Ah, hai fatto solo creare una città, Stato. Oh, buon punto. Questo mi ricorda di... Questo luogo va a necessario di un nuovo maestro. Come ti senti del pubblico? Un'idea orribile. E' in. E' in. E' in. Eeeh, altro episodio che mi stregheranno sicuramente. Beh, che dire. Abbiamo finito un'altra volta se entro tre. Ma, lo sapete tutti, questo non è il finale. Film Stag completata. Un bel po' di rispetto. Niente soldi? Cervello. Il completo bambola gonfiabile. Il completo cesso. Il completo corazza Stag. Bello. Ora i due Vlot di Cyrus a disposizione a casa. Perché due? A caso, totalmente, però grazie. Complimenti. Puoi ripetere l'ultima missione per vedere il finale alternativo. Inoltre potrai continuare ad esplorare, conquistare e distruggere l'universo di gioco. Buon divertimento. Grazie. Vediamo se ci sono arrivati i soldi, anche se ne dubito. Ovviamente perché li abbiamo già presi. Vabbè, non era tenuto in conto che io prendessi il potenziamento del no manichino. Però... Alla fine ci serviva. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. S Ciao a tutti.